Ehi! Ehi! Un senfone prepotente! Prepotente con ignoranza! Vai! Attenzione! Si rientra nel super-serge di Amele Osteziosi Il supereroe che sta facendo in pazienza! Guarda, che stai attesa! Questa stagione è a piedi da essere qua con te! È bello o no? È stupendo! Stupendo! Ho detto è bello, Vedeo! Poi ho detto di sì! Meglio bella è, voglio dire! Allora! Una alla volta saliranno sul palco a fare una foto con te Daremmo il cimbulato a te perché non c'è il tuo lavoro dopo qua! Però tutti gli chiedono, salirà a vedere se vogliamo un selfie con queste belle foto! Facciamo oggi un selfie, dai! Un saluto! Un saluto! Grazie a tutti.